Lost, la quinta serie in prima visione. Ho intenzione di pagare per quello che ho fatto, solo qui per questo. Per essere giudicato. Ho un figlio di tre mesi. Come si chiama? Miles. Che coincidenza! Anche tu ti chiami così, giusto Miles? Noi siamo le variabili, le persone. Noi pensiamo, ragioniamo, facciamo delle scelte, abbiamo il libero arbitrio. Noi possiamo cambiare il nostro destino. Lost, lunedì alle 21. su Rai 2.